bentornato gutlier bentornata ora andiamo a dare un'occhiata agli aggiornamenti è un passaggio obbligato dopo aver installato windows 8 come d'altronde tutti i sistemi operativi la necessità di mantenere aggiornato il tuo sistema operativo oltre che utile e naturale mantenere in sicurezza lo stesso a migliorare le funzionalità in questo caso specifico sono necessari degli aggiornamenti per poter passare alla versione 8.1 del sistema operativo quella attuale in essere alla data in cui parlo è proprio questa parte di cui ti parlerò quest'oggi in questa lezione cosa sono questi aggiornamenti sono aggiornamenti gratuiti necessari oppure importanti che rilascia come ben sai la microsoft costantemente la funzionalità e la gestione degli stessi ricalca quanto visto nella lezione 130 per la sezione windows update del pannello di controllo di windows 7 ti voglio però evidenziare degli aggiornamenti specifici tra tutti quelli che saranno disponibili non appena avrai installato windows 8 due in particolare sono fondamentali e requisito necessario per trasformare il tuo windows 8 nell'attuale versione 8.1 e sono etichettati con la sigla kb 28 71 3 8 9 e kb 29 17 4 9 9 l'ordine rappresenta anche la priorità dell'installazione da eseguire se nel tuo sistema operativo è già attivo l'aggiornamento automatico quindi windows update dal pannello di controllo naturalmente con il tempo troverai automaticamente tra gli aggiornamenti disponibili e installabili dovrai soltanto verificare la loro presenza tra gli aggiornamenti installati come ormai ben conosci da questo screenshot da questa sezione del pannello di controllo tuttavia nel caso avessi appena installato windows 8 oppure avessi disattivato gli aggiornamenti o ancora non li trovassi tra gli aggiornamenti installati potrai realizzare questi aggiornamenti manualmente cliccando sui collegamenti relativi a questi due aggiornamenti potrai accedere alla pagina del sito della microsoft che ti consentirà di scegliere entrambi gli aggiornamenti da scaricare in base all'architettura del tuo sistema operativo installato o 32 bit o 64 una volta scaricati ed installati uno per volta seguendo l'ordine numerico a termine dovrai riavviare il computer fatto ciò visionerai la presenza degli aggiornamenti installati e li troverai elencati naturalmente qui uno screenshot rappresentante appunto gli aggiornamenti già installati ora sei quasi pronto sei quasi pronto a trasformare gratuitamente il tuo windows 8 alla versione 8.1 ma di questo te ne parlerò nelle prossime lezioni preparati perché dovrai andare al negozio per scaricare si fa per dire e per farciò avrai bisogno di eccetera al pc con un account microsoft eccoci coder andiamo a vedere come visionare gli aggiornamenti che devono essere installati per poter trasformare windows 8 in 8.1 visualizziamo la charts bar e andiamo a ricercare il pannello di controllo eccolo qui e andiamo a visionare windows update nella sezione degli aggiornamenti oltre a notare gli eventuali aggiornamenti facoltetivo importanti disponibili andiamo a visionare la cronologia degli aggiornamenti qui come detto gli aggiornamenti importanti per poter passare alla versione windows 8.1 sono il 28 71 389 e il 29 17 499 andiamo a visionare da questa lista di aggiornamenti installati in ordine cronologico andiamo a visionare il primo cioè il 28 71 389 eccolo qua normalmente installato e il successivo è il 29 17 499 con un po' di pazienza lo troveremo ecco qui 29 17 499 nel momento in cui verifichi che all'interno del tuo sistema operativo questi due aggiornamenti minimi sono installati avrai l'opportunità di poter trasformare gratuitamente il sistema operativo Windows 8 in 8.1 ma supponiamo che il tuo sistema operativo ancora non ha installato questi due aggiornamenti come detto potrai scaricare questi due aggiornamenti in maniera manuale seguendo i link riportati nella lezione potrai collegarti a queste due pagine del sito della microsoft e scaricare questi due aggiornamenti potrai scegliere per la versione x86 ossia 32 bit oppure 64 bit per entrambi gli aggiornamenti una volta individuati potrai semplicemente cliccare sul pulsante del download per avviare lo scaricamento di questi due aggiornamenti un dettaglio ti sarà mostrato qualora tu fossi interessato a saperne di più clicca sul pulsante scarica per avviare il download dell'aggiornamento andrai a selezionare in questo caso eventualmente una cartella o zona del tuo disco rigido dove scaricare questo aggiornamento a quel punto sarà sufficiente di cliccare sul pulsante salva e si avvierà la procedura di download per questo aggiornamento stesso discorso è relativo al successivo cronologicamente parlando aggiornamento clicchiamo su download del pacchetto e nella successiva pagina di presentazione avremo anche qui una spiegazione qualora non fosse rappresentata la lingua in italiano potrai sempre selezionarla e ottenere così anche una spiegazione della stessa cliccando su scarica si avvierà dopo qualche secondo il download dell'aggiornamento stesso anche qui andrai a scegliere dove salvare questo aggiornamento e al termine avrai l'opportunità di poter installare questi due aggiornamenti cronologicamente abbiamo detto che il primo ad essere installato dovrà essere il 2871389 sarà sufficiente cliccare sull'eseguibile qui riportato in questa schermata dei processi di download cliccherò sul pulsante apri naturalmente io adesso interromperò l'aggiornamento in quanto il sistema avrà già visionato la presenza di tale aggiornamento nel tuo caso dovrai semplicemente a consentire di buon grado all'installazione e dopo averli installati e riavviato il computer sarai pronto per poter accedere al windows store per poter aggiornare il sistema operativo bene appunto nella prossima lezione ti parlerò di come creare un account microsoft per poter accedere al suo store a windows store ora come sempre un forte saluto ciao a presto da gallo e alla prossima ciao 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 ciao